we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi quest'oggi i fort bite erano due abbiamo già visto il numero 88 ma adesso andiamo a prendere il numero 91 si trova a palmetto paradisiaco e se riusciamo a non farci sparare rompendo questo banco ma ragazzi prenderete anche il fort bite che mancava io vi ringrazio per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live tutti i giorni alle 14 ciao ciao